Sicuramente in gara 1 ci sono stati diversi fattori che hanno magari influenzato negativamente la nostra partita, c'erano diversi infortuni, assenze, malattie, quindi sì, siamo pronte a vendicarci per gara 2 e visto che siamo quasi con la squadra completa ci sarà un assetto mentale e fisico molto diverso. Sicuramente l'ambiente a Praga è un ambiente difficile, è sempre stato difficile giocare lì, però qua in casa abbiamo una spinta in più, abbiamo avuto vittorie importanti e sicuramente i nostri tifosi ci daranno una grossa mano. Quindi vi aspettiamo tutti domani alle 20 per gara 2 dei quarti finali contro Praga. Ciao!